Andiamo al segno della Vergine, una luna molto bella per voi. Una luna che parla di viaggi, di voglia di esplorare, di voglia di andare lontano, di non fermarsi sempre ai soliti luoghi e alle solite persone. Ecco che questa è una luna ideale per chi deve anche iniziare una nuova esperienza, un nuovo percorso, sia esso un percorso lavorativo, professionale, sentimentale o di vita. Perché no? Perché questa è una luna che vi permette di togliere qualche brutta o cattiva abitudine. Magari qualcuno vuole rimettere in forma anche dal punto di vista fisico. Ecco, una decisione che potrebbe essere presa proprio sotto questa luna ideale. Andiamo alla bilancia.